Polina, lei può dire in ogni caso di avere vinto la sua battaglia perché si è battuta come un leone per riaprire le scuole e anche per tenerle aperte, poi però certo in tanti si chiedono nel momento in cui i contagi generalmente aumentano, aumenteranno anche nella scuola, fino a quando possono reggere le nostre scuole aperte? E poi diciamo sul fronte scolastico è anche vero che non avete fatto quello che vi era stato chiesto e quello di cui avrebbero bisogno gli insegnanti da una parte di più formazione e dall'altra di più tablet, di più computer, come mai lì non è successo niente? Allora andiamo per ordine, io non è che ho vinto una battaglia, io ho lavorato con molta umiltà tutta l'estate insieme ad un'intera comunità scolastica che ringrazio ogni giorno, fatta da docenti, dirigenti scolastici e personale ATA. E devo dire che anche le famiglie hanno dato una grossa mano. La riapertura delle scuole in un paese civile, qual è l'Italia, doveva necessariamente avvenire e io credo tutt'oggi che per come si è preparata la scuola quest'estate, anche laddove i contagi dovessero aumentare, la scuola dovrà essere l'ultima a chiudere nel paese. Così come sta avvenendo in Francia, in Germania, in Irlanda e in altri luoghi. La scuola è una priorità e il paese Italia la scuola se la deve dare come priorità, perché il presente è il futuro del nostro paese. Li formiamo i ragazzi. Ecco perché rispetto alla questione per esempio della campagna, per cui sono molto felice del fatto che la scuola primaria riapra lunedì, io penso che un passo avanti è stato fatto, ma se ne deve fare ancora un altro, perché c'è la scuola secondaria di primo grado, quelle che si chiamavano scuole medie, che ancora restano chiuse. E io oggi ho sentito anche il prefetto di Napoli. Tenere chiuse le scuole in certe zone del paese rischia di essere pericoloso, perché poi quei bambini, quei ragazzi vanno per strada. A me in questi giorni hanno mandato delle fotografie dove i bambini erano per strada a giocare a pallone, altri erano presso i centri commerciali nel pomeriggio. Allora questo non è che aiuti il virus ad essere debellato. Se fossimo in una situazione di lockdown totale potrei capire, ma se i bambini non vanno a scuola per andare per strada è un problema per questo paese. E lo è a maggior ragione in una regione dove c'è una forte dispersione scolastica, perché noi in questo momento in Italia abbiamo una dispersione, secondo i dati Eurostat, del 14,5%. L'Europa ci chiede il 10%, in Campania siamo al 18,5%. E allora la scuola diventa non soltanto un luogo di formazione, ma di socialità. Noi abbiamo sentito i pediatri, abbiamo sentito i pedagogisti. La scuola in questo momento è il luogo controllato, dove ci sono le regole, si fanno rispettare le mascherine quando necessario. Siamo l'unico paese che distribuisce le mascherine a tutti, alunni e personale scolastico. Ci sono i geligianizzanti, abbiamo fatto degli investimenti nei banchi, abbiamo messo 70.000 docenti in più. E sulla formazione abbiamo fatto un percorso che si chiama formare al futuro per i docenti, affinché si formassero il più possibile al digitale. Non solo, ma anche rispetto a... Quindi lei sta dicendo la sua cosa, mi scusi Ministra. Finisco, l'ultima cosa, siccome mi ha fatto la domanda sui tablet, noi abbiamo investito 200 milioni di euro per comprare tablet e pc e ci hanno aiutato tutti, la protezione civile, a distribuirli anche quando eravamo in difficoltà nel periodo del lockdown di marzo, aprile e maggio. Si può fare sempre di più, attenzione, si può fare sempre di più e lo faremo. Però la scuola ha lavorato tanto, tanto. Quindi lei sta dicendo, Ministra, che se si dovesse, per un malauguratissimo caso, dover tornare alla didattica a distanza, la scuola italiana è pronta, sia con gli insegnanti che con i device, i tablet, i computer per i ragazzi. Noi ce l'abbiamo messa tutta, se c'è ancora da fare qualcosa, lo faremo, non ci tiriamo indietro, lavoriamo tutti insieme al Ministero dell'Istruzione e negli uffici scolastici periferici. Grazie. Grazie.